Si è appena concluso il concerto dell'Orchestra della Nato qui a Sulmona, voglio chiedere subito al capitano, nonché maestro dell'orchestra, come ha trovato il nostro pubblico. Come pensate del crowd tonight, signor? Mi pensavo che erano meravigliosi, che erano piaciuti da inizio a inizio e che hanno dato molta energia alla band nella nostra performance. Ha detto che è un'energia spettacolare, che sono un pubblico bellissimo. Grazie per il pubblico bellissimo, anche noi abbiamo apprezzato molto. So che siete in tournée, una tournée che tocca a parecchi paesi. Dove andrete dopo Sulmona? Dopo Sulmona, dove vedete noi performando prossimo? La nostra prossima performance sarà tornata in nostra base a Napoli, in Napoli, quindi proprio all'interno di Napoli è dove stiamo andando dopo oggi. E dopo oggi sera, il prossimo concerto saranno a Napoli. E altri paesi che hanno toccato prima di Sulmona? E quali altri paesi che abbiamo toccato prima di Sulmona? Oh mio Dio, abbiamo stato all'interno, ogni paese in Europa e molti dei paesi sull'interno dell'Africa, quindi coviamo tutta l'Europa e l'Africa. Un paese da tutta Italia, dal nord, dal sud, ma anche fuori d'Europa, da Russia e anche l'Africa. Un tour veramente mondiale, possiamo dire. So che oggi avete visitato la nostra città di Sulmona. Come l'avete trovata? Se vi è piaciuta. Come pensate di sulmona? Credo che è bellissimo. È la prima volta che ho mai visto l'Adriatico, questa parte dell'Italia, e è spettacolare. Credo che è bellissima. È la sua prima volta qua, è eccezionale. Bellissimo. Una curiosità personale, poi vi lascio andare. Come conciliare l'attività di far parte di un corpo, di un'arma, con la musica? Quanto tempo vi ruba? Provare e provare. Come si è unito con il militare e la musica? E quanto tempo ha bisogno di riempire questo per lavorare? Militare e la musica insieme. La musica e la musica, they seem to work well for us. You saw the concert tonight, so it works very well together. I mean, music is a discipline in itself, so is the military, just another kind of discipline, but it comes together very nicely, as you saw tonight. La musica e la vita militare, tutti hanno una disciplina, come si dice, stretta, ma funzionano come puoi ascoltare oggi. Funzionano benissimo. Ringraziamo il capitano Ken Collins e... E sono il sottofficiale Luis Espinosa. Luis Espinosa. Grazie mille, grazie, in bocca al lupo per i prossimi concerti. Grazie. Grazie. Grazie.